Arrivo un momento nella vita di ognuno in cui ci si stacca dal nido. Otto anni fa furono esigenze di studi a provocare il mio distacco dal nido. Quello che oggi più mi manca è non vedere invecchiare i miei genitori. E' un po' come se loro non avessero visto crescere me per otto anni. Otto anni sono tanti. Ci sentiamo tutti i giorni, ma non sarà mai come averli vicini. Sono anni persi. Questo mi rattrista. E' l'idea di non poterli recuperare ancora di più. Poi sono arrivati i nipotini. Vedo poco anche loro. La mia più grande paura è che loro non si ricordino di me. Che non mi considerino più della famiglia. Sono tornato a casa di mia sorella dopo quasi un anno. Erano le 7.30 del mattino. Giuseppe e Aurora dormivano. Mi sono avvicinato a loro per dargli un bacio e guardarli dormire. Di lì a poco si sono svegliati. Aurora mi sorrideva, anche se imbarazzata dalla mia presenza. Giuseppe invece mi si è avvicinato accoccolandosi sulle gambe. E' stato un gesto sorprendente. Spontaneo. Il gesto che ha fatto cessare la mia paura. E' bello sapere di essere amati. Nonostante la sensazione di sentirsi sempre soli.